Sono Sira D'Avarese e leggo la poesia scritta da me che brillino solo i cucchiai, per la manifestazione un testo per la pace. Una lacrima è da sola, nella pozza della paura, si alza e chiede conforto, ha bisogno che qualcuno di lei si prenda cura. La raggiungono le altre, che le fanno compagnia, ma cadere sono in tante, nel pianto più triste che ci sia. È il pianto della guerra, che inonda la nostra terra, la guerra che inquina e spegne i cuori, annerisce la brina e porta tanti dolori. Voglio che arrivi un grande cannone, fatto di miliardi di mani e anime raccolte, che possa funzionare solo con l'amore e possa sparare solo cose buone. Abbracci e affetto, sorprese ad effetto, musica sentimentale, tanto bene e niente male. Voglio che arrivi una scopa da milioni di setole, che spazi via la guerra e che il ferro possa brillare solo col movimento dei cucchiai, riversando cattiveria e arroganza nell'angolo del niente, lontano dalla gente, sfamando bocche e cuori, con la più grande pietanza, la preziosa bontà, che sincera opera, sazia e mai mente. Un suo gesto salva milioni di vite e porta ad essere uniti e non divisi. Abbasso le lacrime e viva i sorrisi.